Luigi Settemretti è il consulente che in pratica promuove questi workshop per tutte le attività legate alle consorzio Marche Viaggiare. Lo slogan è professionalità e accoglienza ed è stato sicuramente dimostrato in questi incontri che noi abbiamo seguito nel corso di questi mesi. Sì, lo sforzo che facciamo è sostanzialmente quello di unire il pubblico e il privato, il territorio e le risorse gestionali, le risorse strutturali di cui questa provincia, questa regione è così ricca e quelle gestionali che sono quelle dei operatori, degli albergatori, country house, bed and breakfast e agriturismi. Questo è un grande valore, ci siamo riusciti facendo di queste azioni di intermediazione con tour operator europei, abbiamo già fatto con la Russia, con l'Italia del Nord, oggi con la Germania e nei prossimi giorni faremo con Scandinavia, Olanda, Belgio e Inghilterra. Azioni con l'intermediazione e azioni dirette, abbiamo fatto ormai da quattro anni che facciamo con questo sistema a rete, azioni piazze italiane in cui incontriamo direttamente il potenziale turista. Siamo stati a Milano, a Padova, a Verona, a Roma, a Parma, a Mantua e da queste esperienze torniamo a casa con 200-300 indirizzi di persone che sono interessate. Li giriamo alle risorse gestionali, i quali fanno le offerte, perché oggi sul mercato, gli operatori lo sanno, bisogna esserci e bisogna essere flessibili. Allora, chi fa delle buone offerte si prende il turista. Stefania Monteverde, vice sindaco del Comune di Macerata, assessore alla cultura e al turismo, oggi un incontro con importanti tour operator della Germania e dell'Austria, la promozione del nostro territorio passa anche attraverso queste qualificanti iniziative di Marche Turismo che vogliono far incontrare la domanda con l'offerta. Sono incontri importantissimi. Incontrare i tour operator, far conoscere il nostro territorio, far conoscere i nostri beni culturali significa poter promuovere il territorio in una maniera molto più emotiva. È questo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una narrazione del nostro territorio, un racconto e portare qui i tour operator, far vedere lo sferisterio, far vedere il Palazzo Buonaccorsa, avere l'opportunità di provare i nostri vini, di assaggiare i nostri vini e mangiare la nostra cucina significa creare un'emozione che possa far vendere poi il nostro territorio. Ne abbiamo molto bisogno perché in questo momento il turismo, accompagnato alla valorizzazione dei beni culturali, è davvero la nostra leva di sviluppo. I dati sono veramente incoraggianti. Penso a quello di Macerata. Ad agosto il Palazzo Buonaccorsi, intorno a cui ruota poi anche la stagione lirica e tante altre opportunità, ha avuto un aumento di visitatori del 90% rispetto all'anno precedente. Qualcosa di veramente straordinario. Così come i dati incoraggianti della stagione lirica che ha aperto moltissimo anche all'interno dei percorsi e degli itinerari turistici dei tour operator. Davvero, questo significa per gli amministratori dover e poter investire sui beni culturali, sui beni culturali, sullo spettacolo, su politiche culturali che siano significative per le grandi agenzie di viaggio del mondo.